Con il rientro tra i banchi degli alunni del primo circolo Giovanni XXIII di Sciacca, la scuola in città è ufficialmente iniziata per tutti. Sono stati infatti gli alunni della primaria della scuola dell'infanzia dei vari plessi, il fazzello di Vialicata, il Giovanni XXIII di Via Catusi e il San Giovanni Bosco di Via Brigadiere Nastase ad iniziare da ultimi oggi come previsto al calendario regionale. Le immagini si riferiscono proprio al San Giovanni Bosco dove stamattina, come negli altri plessi, l'inizio della scuola è stato all'insegna della festa con una vera e propria cerimonia dedicata all'accoglienza dei bambini che frequenteranno la prima elementare. Sono stati gli alunni della quinta ad accogliere con canti in un vero e proprio clima di festa coinvolti dalle insegnanti i bambini neoarrivati della prima elementare. E' dunque ufficialmente iniziato per tutti il nuovo anno scolastico, un nuovo anno che come al solito pare abbia colto qualcuno di sorpresa. E' il caso proprio del plesso San Giovanni Bosco di Via Brigadiere Nastasi. In Via Verona infatti stamattina nella strada adiacente alla scuola erano all'opera gli operai comunali della squadra segnaletica per il rifacimento delle strisce pedonali. A segnalarlo con relative immagini oggi il consigliere comunale Simone Di Paola, immagini che documentano il caos che si è venuto a creare stamattina in Via Verona all'ingresso il primo giorno di scuola con gli operai al lavoro e la carreggiata ristretta al transito veicolare. Risultato? File interminabili di macchine in code in entrambi i sensi di marcia, clacson assordanti e gente inviperita per una scelta assurda. Come se non ci fosse stato abbastanza tempo tutta l'estate per sistemare le strisce pedonali o non si sapesse che giusto oggi era il primo giorno di scuola e non si potesse programmare questo intervento in un momento diverso, non certo nell'ora di punta dell'ingresso a scuola. Insomma, in poche parole, pessimo tempismo.